Era il 27 luglio quando Arezzo è parte del territorio della sua provincia ha dovuto fare i conti con l'alluvione. L'acqua si è portata via anche una vita umana a un pensionato morto nella zona di Ristradella, vicino all'abitato di Olmo, una delle aree maggiormente colpite dalla furia di acqua, fango e detriti. Furia che ha determinato per il territorio ingenti danni ma la storia la conosciamo già, una storia che sarà ripercorsa nel prossimo consiglio comunale ad Arezzo che si svolgerà in forma aperta quando all'ordine del giorno ci saranno appunto i problemi sorti in seguito all'alluvione. La seduta in calendario per martedì 29 ottobre alle 13.30 vedrà in apertura come di consueto le interrogazioni, di seguito una serie di argomenti e alla fine toccherà appunto a quanto accaduto a luglio. I cittadini hanno visto in questo ultimo periodo soprattutto in via romana alcuni lavori da parte di Nuove Acque, in particolar modo l'ispezione con l'ausilio di telecamere delle fogne che ci sono nella zona. Queste alcune immagini che ci hanno girato proprio i residenti. Il comitato di via romana sarà sicuramente presente alla seduta aperta del consiglio e c'è da scommettere che di acqua ce ne vorrà tanta per spegnere il fuoco delle polemiche.